Giorno 5 C'è lei ancora con me? C'è lei ancora con me? Sì, è sicuramente! Occhè, l'ai dato un po' di thought, e... E? Sì, solo la missione... Make tracks for O East. There you will find the key to the target. The upheaval rule is once more in effect. Teams more in the ranking will earn more points if they succeed. The revolution returns! Huh? That's new. Anyway, let's bounce. But Rendell, you appear somewhat... Unwell of late. I'm fine. Can't hear you, champ. So, make up your mind yet, Rendude? You did say you gave it some thought. Yeah. So... Lo sapevo che qualcuno lo interrompeva di nuovo. What's happening, Skulls? Lollipop? Get out of here, yo! So... To what do I owe the pleasure? Got so hungry for some action that you came back for seconds? Croman boy's gotta eat, you feel me? Haha, glad to see you haven't lost your sense of humor. Beh, almeno se la stanno ridendo. I want to know what you kids said to Uzuki about me. Uh... About you? Hmm... Pretty sure we just mentioned how you're really cool and super chill. Haha. Alright. Interessante. Makes a reaper wonder why she decided to tear me a new one, then. So she did teach you a lesson or three. I felt more like four or five, at least. Ah, beh, allora. She also told me something else I wasn't too thrilled about. Che siete vivi? You kids weren't actually dead. But I couldn't believe it. Ovviamente. Believe it, yo. A lot of things have changed this time around. Wow. Thinking that Shinjuku reapers is up to something. Meh. Could be. If you want to know their grand plan, you're asking the wrong guy. Yeah. Pinky ain't had a clue neither. Yo. There always been bad blood with you and Shinjuku? Not always. We got along just fine at first. Even offered to give him a new home when the old one got torn down. In sostanza, Chi era Demon è l'unico che si è salvato, eh? Welcome to Shibuya, folks. Wasn't expecting so much company. What the hell happened up there? Eh. An inversion. Go on. It was tragic really. Our little game was just heating up. When all of a sudden, the boundary between the UG and the RG just melted away. Taking our beloved Shinjuku with it into the ether. In che senso? And none of us are any the wiser as to why such tragedy befell us. Pfff. Stai mentendo. So when I say We'll be eternally grateful if you offer us shelter. Gracious. Game Master. Chi era il Game Master? Ozuki? Eh, esatto. Tre anni fa, ma non per lontano, qualcuno ha dovuto riuscire dopo che tu e i telefono hanno preso i poteri che erano. Ehi, sì, ho mai forgoto di tutto. Uno può solo immaginare come. Sì, sicuramente non posso. Non credo che stavo parlando con te. Ha, immaginato così. Quindi, tu dici che Pinky si è diventato come un tipo di uomo? Eh. Go easy on the poor girl, will ya? Sides, it's kinda my fault for going against Shiba. He doesn't take kindly to naysayers. That's why there's so few of us left. You don't roll with the punches, you get knocked out. Y'all had it rougher than I thought. Anyway, like I was saying, I don't know what your team's deal is. But I'd love to know who's responsible. Ma di cosa? Cioè, per quale motivo? Qual è il cosa? Perché siamo qui? After all that, his advice is just keep playing? It's all we can do for now, yo. Think it ain't gonna get us nowhere. Let's take care of the mission. Right, Rindo? Right. Ma, trova la chiave per l'obiettivo e ovviamente la strada. È chiusa. Oh! Ehi la! Oh, ragazzi, siete voi? Oggi per voi ho della roba che Scott... Polizia? Ehi, tu cosa ci fai qui? Ha un piacere rivederti oggi. Sei riuscito a vendere i miei fiori? Non so, tu che ne dici? Ne ho ancora un mucchio sugli scaffali. Ti conviene venderli in fretto o passeranno? Cerca di farli fuori entro fine giornata. Speravo che riuscissi a venderli tutti ieri, invece no. Hai pensato a chiedermi di non vendere il tuo ciarpame per cominciare? Non posso dire di averlo fatto. E poi, sei tu che hai insistito per voler fare tutto da solo? E va bene, i debiti vanno ripagati, io sono in debito con te. Questo chi è? Non ne ho idea. Grazie, tornerò a controllare più tardi. Dannazione, perché mi devo prendere questa scocciatura? Ehi ragazzi, avete un momento per me? Assolutamente no, siamo super impegnati e siamo qui per fare acquisti, non per lavorare. Almeno statemi a sentire, riguarda le voci che girano per Shibuya. Si dice che se porti un certo fiore speciale a una certa persona speciale, improvvisamente si creerà un magico e profondo legame di amore o stupidaggini simili. Sembra sospetto. Se regali un fiore, il tuo amore si prenderà tutti i tuoi dolori. Se regali un bouquet, sarai tu a prenderti le sue pene. Oh, mi sembra di averla già sentita questa. E allora? E allora è questo qui, questo è il fiore. È quasi impossibile da vendere, sto diventando pazzo per cercare di liberarmene. Che ne diresti di andare in giro a farmi un po' di pubblicità? Non so. Questa storia mi puzza, ma non possiamo lasciare il vecchio nei guai. Oh, e poi una sosta ci farebbe bene, diamogli la mano. E poi dovremmo aiutarlo se vogliamo che ci venda le sue cose. Allora lo farete, fantastico. Certo, ma magari non aspettarti troppo. Ad ogni modo, questo tipo di iris è un fiore ufficiale di Shibuya, giusto? Non chiederlo a me. E poi il fiore cambia a seconda di dove ne senti parlare, quindi non ha molta importanza. Interessante. Ogni post ha un fiore diverso. Hey! Cosa dobbiamo convincere la gente a comprare? I fiori singoli o il bouquet? Ci sono anche dei vasi di fiori se vogliamo provarci. Oh, quelli sono le scorte in eccesso che mi ha rifilato il vecchio. Ma per me sono tutti uguali, voglio solo liberarmi. Quindi andate e trovatemi dei nuovi clienti. Almeno cinque per cominciare. Wow! Rioggi, tu sì che sei una brava persona. Adesso abbiamo anche un numero minimo. Va bene, come ci organizziamo? A parte imprimere l'idea, non possiamo fare molto. Se desideriamo vendere i singoli fiori e i bouquet, sarebbe meglio sfruttare la notorietà della leggenda metropolitana. Perché allora ieri questa missione non c'era? E per quelle a cui queste voci non interessano, possiamo provare con i vasi di fiori. Esattamente, anche se continuo a dubitare che venderemo l'intero stock. Beh, iniziamo con quelli che hanno sentito parlare di questa storia. Perfetto, in posizione, pronto a scansionare. Un fiore, un bouquet, vasi di fiori. Taka il tuttofare. Ah! Il tuttofare che appioppa le roba all'altro tuttofare. Ma non mi fai vedere neanche la roba? Che stronzo che sei. Sei veramente schifo, Rioggi. Quindi la missione è il 104 Rioggi e l'incrocio pedonale. Non è che già c'è qualcuno che vuole i suoi fiori merdosi qua, vero? Tu cosa vuoi per farmi passare? Sì. Volete passare? D'accordo, ecco l'obiettivo. Ok, i corvi. No, non sono i corvi. Sconfiggete i rumori con questo simbolo. Cancellatene... Sì. Volevo dire due, ma uno basta e avanza. Sconfiggetene uno. Davvero, tutto qui. Tutto qui. Attenti a non sbagliare simbolo, però. Ok. Uno solo. Perché però... Allora ho il presentimento che ci sia qualcosa sotto. Comunque ho visto una nuvoletta rossa. Forse vuole i fiori, la Shura. Per chi non sapesse cosa vuol dire dal bergamasco, Shura significa signora. Uno solo, eh. Ah, è ok? Ok, aspetta. Perfetto. Vieni qui. Beccati un po' di roccia in faccia. Madonna mia. L'atterramento è... Uno stato incredibile. L'atterramento insieme al ghiaccio fa miracoli, veramente. Uno dei due deve sicuramente riuscire a broccare uno dei nemici in qualsiasi modo. Non me ne può sfuggire, insomma, da questa combinazione. Perfetto. Vieni qua. Un po' facile. Un po' facile come condizione, ma magari, sai, era una di quelle barriere minori che proprio... Fai questa cosa... Uh. Plic, plic, panico. Drip, drop, splish, splash. Altra citazione. Comunque 0% di danni, cioè... Ci sono giornate in cui ce la cavalchiamo proprio, sta... Ste partite. Ho sentito dire che qualcuno qui vendeva fiori di quella leggenda metropolitana, ma non vedo nessuno in giro. Forse ce li ha quel tipo laggiù. Signora? È attaccata al baracchino dove sto ladro vende sti fiori. Ho sentito, credo, un maiale. Vabbè, imprimiamoglielo, un fiore... Vendeva i fiori, quindi... Magari vuole un bouquet... Bouquet comprare, dai. Non penso ci sia diversi... Beh, forse se ne vendiamo tanti... È meglio che vendere un fiore singolo? Non lo so. E se comprasse un bouquet? Non so se sono gli stessi della leggenda metropolitana, ma se non altro avrò una storia da raccontare. Abbiamo truffato una prova alla signora. Io, eccone uno. Uno è andato, ne mancano quattro. Vabbè, però, aspetta... È esatto, come immaginavo. Sono tutti in questa zona. Che sbatti. Il capo ha chiesto di indagare su quella leggenda metropolitana, ma sarà quello il fiore giusto? Fiore maniacale, sembra falso. Questo finirebbe nei guai se comprasse un bouquet. No, bouquet comprare. Cioè, no, questo voleva un fiore, sicuro. Un vaso era troppo, un fiore mi sembrava poco a me. Prenderò solo un bouquet. Secondo la storia puoi praticamente scambiare questo mazzo di fiori con i problemi di un'altra persona. Ho già abbastanza problemi così. Me lo porto a casa e basta. Perfetto. Stiamo andando alla grande, io. Già, ne mancano solo tre. Uh, eccolo qua, il maialino. Che maiale sarà questo? Scopriamolo subito. A te coi. Secondo me è uno di quelli che vuole un determinato elemento. Può essere... No, è un maiale normale, che culo. Quando succedono sti miracoli mi fai felice. Questo qua è il più semplice di tutti. Prenderà anche uno solo di danno. Ma santo cielo, abbiamo una velocità di danno in questo momento che è paurosa. Soprattutto questo maiale qua è molto facile da tirare giù grazie alla spilla che abbiamo dato a Fred. Perché Fred fa... Colpi veloci. Lui prende, a prescindere da qualsiasi attacco, uno di danno. E i colpi di Fred sono tantissimi, quindi... Allora, tu che vuoi? Mi è andato il sangue alla testa quando mi ha lasciato. Devo darmi una calmata e smettere di pensarci. Pensa un po' ai fiori. Comprati un vaso di fiori. Prenditene cura, vedrai che starei meglio. Può essere un'idea, effettivamente. Prendermi cura di un vaso di fiori sarà un buon modo per distrarmi. Ma guarda un po' cosa c'è laggiù. Li vendono proprio lì. Questo... Era telefonata. A quanti siamo arrivati? Tre. Ne mancano ancora due. Bit, ma come fai a perdere il conto così facilmente, fratello? Vediamo, chi altro ci manca? Lei. Perfetto. Regalo di pronta guarigione. Non posso credere che sia infortunata prima di dire la grande partita. Cosa posso portare per tirarla un po' su? Un portafortuna sarebbe troppo, ma se le portassi dei fiori... Il bouquet è prendersi problemi di un altro, quindi... Potrebbe funzionare bouquet comprare. Può essere un'idea. Visto che quella aveva bisogno di prendersi cura di qualcos'altro, questa ha bisogno di sollevare un'altra persona. Comprerò un bouquet e così capirà che sia il pensiero per lei. O fai le cose per bene o non le fai per niente. Oh, e quel negozio sembra proprio quello che mi serve. Ce ne manca uno solo ora. Facilissimo. Ci siamo quasi. Ne manca solo uno. Ottimo. E dove si trova l'ultimo? Eccoti qua. Il mio amico continua a parlare di quel fiore della leggenda metropolitana. Dice che se è vero dovrei provare a regalarlo alla mia ragazza, ma non so se credere a una cosa del genere. Ma sì dai fai un bouquet alla tua ragazza e fai il galantuomo stronzo. Stavo pensando di fargli prendere un solo fiore, ma... Ascolta. Ma sì, è un gesto carino alla fine. Prenderò un bouquet. La leggenda metropolitana dice che assorbirà tutti i dolori della persona che ami. Ma non importa. Prenderò qualsiasi sentimento che vorrà darmi. Bravo. Questo è un uomo. E con questo abbiamo finito. Andiamo a vedere come va il negozio. Sì, andiamo. Per fortuna era una missione veloce che si sbloccava subito nella stessa zona in cui la trovi. Ryoji vendimi qualcosa di utile ora. Ehi, ottimo lavoro ragazzi. Si sta spargendo la voce. Salve Ryoji. Ah no, sarà sicuramente il vecchio. Salve Ryoji. Hai venduto quei fiori spero? Sì, li ho quasi finiti. Eccellente. Le leggende metropolitane hanno un grande potenziale di guadagno pare. Chi sono questi ragazzini? Non farci caso, mi danno una mano ogni tanto. Comunque, sei soddisfatto adesso? O hai qualcos'altro in cui lamentarti? No, sembra tutto in ordine. Oggi ho guadagnato più del previsto. Tornerò quando avrò altri compiti da assegnarti. Non far stancare troppo i ragazzi. Què? Per favore, non tirarci in mezzo. Sarebbe meglio se quel vecchiaccio non si facesse più vedere. Comunque grazie per il vostro aiuto. Prendete. Oh, grazie. Sarà meglio tornare a vendere i soliti articoli. Potete aiutare comprando qualcosa prima di uscire. Ryoji. 5 punti amicizia. Taka il tutto fare. Cos'è che faceva Taka? Non mi ricordo se ho guardato. Taka, taka, taka. Eccoti qua. Oh, è il collegamento con la vecchia. Sblocca, ti permette di equipaggiare. Bravo Taka, porca troia. Tu sei che sei una brava persona. Vaffanculo Ryoji. E te chiedami anche sti occhiali col nasone. Ok. Ok, bene. Potete passare. Voi Wizzet Twister siete un portento, lo sapete? Gentile da parte vostra. Ma non montatevi troppo la testa, va bene? Ehm, c'è qualcosa di strano in lui. Magari è un nostro fan, che ne sai. Vediamo l'altro invece per cosa ci fa passare. Volete passare di qua? Prima dovete fare una cosuccia per me. Cioè, cancellare un rumore con questo simbolo. L'orso, facile. Sta zona era facile. Normalmente chiederai tre rumori, ma... Mi hanno pagato per trattarvi con i guanti, perciò ne basterà uno. Cosa? Davvero? Cioè, non rifiuto l'offerta. Ma chi è che ti pagherebbe per una cosa simile? E perché? A mission donata non si guarda in bocca, no? Non arrovellatevi troppo il cervello. Eliminate uno di questi rumori e siamo a posto. Perché ho la sensazione che potrebbero essere stati proprio i Ruinbreakers a fatlo? Allora, potrebbe essere stato Motoi o... Comunque anche... Canon. Però... Mi sembra troppo ben studiata. Potrebbero stati proprio i Ruinbreakers a pagare tutti i demoni per farci semplificare la giornata di oggi. Qual è il motivo? Non lo so neanche io, in realtà. E... Certo. Madonna mia... Avere... Due Super Spill è un vantaggio... Che non voglio certo buttare, ma ho appena realizzato una cosa terribile. Ah no, sono io scemo, madonna, meno male Stavo dicendo, mi sa che la spada di fuoco non si riattiva Sarebbe stato un vero problema quello Non vedo, perfetto Perfetto, siamo anche saliti di livello Bella combo, ragazzi Ok, gli occhiali col nasone sono ottimi Mi sembra che si riattivava davvero molto velocemente la spada Pare che sia tutto in ordine, potete passare Grazie amico Dobbiamo mostrare riconoscenza al nostro benefattore misterioso Sì, chiunque sia Allora, la nostra direzione è dall'altra parte Quindi io prima vado da queste parti per vedere Uno se ci sono altre missioni Due maiali Tre oggetti nuovi Che tra l'altro, guarda un po', una delle missioni si trova proprio qui All'incrocio pedonale dove dobbiamo andare E l'altra si trova al 104 Perfetto Va bene, tanto siamo in zona quindi Io credo che però A una certa I vestiti diventino un po' come la Souls Ovvero Quando arrivi A talmente tante HP Tanti punti attacco Tanta difesa Tanto stile Vabbè Arrivi a un punto in cui Metti vestiti Metti i vestiti Con la roccia Quest'altro che le mobilizza con il ghiaccio Cioè Stiamo In questo momento Abbiamo la build migliore che posso Pensare Veramente Meglio di questa Non penso di poter fare al momento Veramente Abbiamo una potenza di fuoco molto buona Abbiamo tenuto per la prima volta La prima spilla Con il simbolo del rumore Ed è quella della rana Speriamo che faccia qualcosa di figo A sto punto La madonna La pancia vuota Vediamo Vediamo Che cosa fa allora Ed è un tasto quadrato Quindi Può essere anche interessante Volendo Ok Tocco rapido E spara bolle in faccia Ai nemici E ti dirò Potrebbe non essere male Potrebbe essere anche interessante Quanto mi dai? 900 yen Un po' poco Ovviamente non si evolve Perché è un simbolo Un rumore Però 726 Potrebbe non essere male Certo Mi scoccerebbe Togliere questa qui Perché L'effetto Diciamocelo Ci sta Ma Sarei Ben volenteroso Di cambiare Se può servire Alla causa In questo momento D'altronde La spada di vento Può fare comunque Abbastanza male Anche se Passiamo da 1100 A 320 A livello A livello di design Comunque Le spille che mi piacciono Di più Sono queste qua Del jolly Bicot Non pensavo Questa spilla qui Invece Di guarigione Ci sta È di elemento Luce Ed è la prima volta Che forse Prendiamo una spilla Di quell'elemento Ripristina L'ipf L'ipf della tua squadra Cacchio Non ne combino Ma è una giusta Se continuo così Non ce la farò mai Anche se non è che sia colpa mia La colpa è solo di quello stupido Ryoji Se avesse fatto lo sforzo Di insegnarmi qualcosa Non sarei in questa situazione Ma Ryoji Te lo presentano Come un personaggio Importantissimo Quando invece È un Uno schifo Che problema Secondo voi È un rumore No Ne dubito Lo abbiamo già incontrato In passato Abbiamo già preso visione Di suoi pensieri E dovrebbe essere Libro dagli intrusi Oh giusto Mi sembra di ricordarlo Era quello che postava Gli anichimi Per Ryoji Giusto Corretto E anche se sembra Essere turbato Non è un problema Relativo ai rumori Allora Cosa facciamo Non lo so Niente Non è che ci stia Chiedendo aiuto E dai Scansioniamolo un attimo Che male c'è Il male che dovremmo Occuparci Della missione Segi il quasi Tutto fare E vediamo Il quasi tutto fare Dove si colloca Nella lista Estensione della catena Niente di eccezionale Al momento Cioè L'abbiamo già abbastanza grande La nostra catena Mi chiedo Solo se Sugumi La sblocchiamo Tramite Prima Susukichi E effettivamente Lo sbloccheremo A fine di questa settimana O se Fra Susukichi E Probabilmente O Bit O noi Ne dubito Un aghi O il principe Ci sia qualcuno Di mezzo Mi sorprenderebbe Se fosse il principe Ti dirò Però forse A bit Mi è solo andata male Da quando mi sono messo in proprio La colpa però è tutta di Ryoji Se mi avesse insegnato Un briciolo Di quello che sa Non mi ritroverai In questo casino Quindi ti devo Quindi ti devo Imprintare Ryoji 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 Ryugawa Tekyo Kurao Ma che poi Ste cose del puzzle Sono di una semplicità Cioè non è che Se mi aumenti la quantità di pezzi Mi complichi la vita Ci vuole solo un attimo di più A Metterlo in posizione corretta Niente più Niente meno È facilissimo E a prezzo Però Vediamo Vediamo A quanto pare Le recensioni aiutano Fino a un certo punto Non ha senso impegnarsi tanto Se nessuno ti conosce Bisogna far girare la voce E poi i clienti arrivano a frotte Non è sbagliato Anche a un tutto fare Può servire aiuto Quindi è meglio Non fare tutto da soli O così Mi hanno detto Non ne sono proprio convinto Però Ho ancora molto da imparare Ne ho abbastanza Di essere trattato così Lo mollo questo stupido lavoro Sono d'accordo Con l'ultima Aspetta Un paio di cose Dari oggi le ho imparate Per esempio Come farsi pubblicità E farsi conoscere in giro Non ho fatto niente Di tu In quel senso Cos'altro Ah si Ho imparato quanto sia importante Non fare tutto da solo Insomma Io sto facendo tutto da solo Ma che problema c'è Forse è questo il mio problema Devo pensarci un po' di più Ma quando l'avrò fatto Avrò il miglior tutto fare Di Shibuya Abbia mai conosciuto Ma non ha detto Che lasciava il lavoro Vabbè Visto L'avevo detto Che si stava dimenticando Qualcosa Ottimo lavoro Socio Cacchio Mi fai arrossire Ad ogni modo Meglio concentrarsi Sulla missione Sì Beh è stato facile Ottimo Mi piacciono le missioni Ogni tanto facili A proposito di missioni facili Guarda lì Chi è che ha chiuso la porta Oh Se volete passare di qui Dovete farvi strada Combattendo Io ci metto rumori Voi li affrontate Ci state? Ci stiamo io Sei d'accordo Rindo? Possiamo combattere Ora siamo pronti Visto L'ha detto anche lui Ok Vediamo se la nuova combinazione Con fret È utile O è meglio Mettergli il quadrato Ok Io punterei Sai cosa? Proviamo Non l'abbiamo ancora mai provata Putta Che male Allora Già Il beat drop esplosivo Dio mio Ha fatto Un male terribile Ha fatto veramente male Porca troia L'orso L'orso muore con le esplosioni È incredibile Sai cos'è il problema del veleno Quando ce lo lanciano i nemici a noi È che su di noi dura più Un sacco Bene Non ha neanche colpito quello lì Fantastico Però Eh Unito alla cover per il cellulare Non è male Il coso qua esplosivo Cioè Vedi Fa tutto lui Sulle rane non fa Grenche di danno Pensavo molto meglio Pensavo molto meglio Sulle rane Ma sull'orso Tutta altra roba Uno solo di rumore Davvero Vabbè Meglio Ottimo Bel combattimento Li avete già cancellati Lo sapevo che dovevo farli più forti Eh Fare più forti chi? I rumori rimbambito Volevo farvi sudare un po' Ma devo seguire gli ordini Aspetta Qualcuno ti ha ordinato Di andarci piano con noi Io o meno In ogni caso Non siete assolutamente All'altezza Ero in Braggers Ma Buona fortuna Lo stesso Malinconia Per malinconia Lancia tre boomerang Che sfrecciano Contro il bersaglio Caricalo al massimo Pescaia E' nemico in aria E' una spilla normale Una super spilla Mi sa tanto spilla normale Vero? Ah Ah beh Il boomerang E' bello grosso Almeno Quanto fai di danno? 785 Vediamo Fretta E' meglio questo O l'esplosione? Meglio questo Quindi vai Quanto si ricarica? 9 secondi Lancia carte Che inseguono i nemici Intorno al bersaglio A un dd2 Continua l'attacco Per respingere il nemico 6 secondi Per la riattivazione Frate Mica male Dai Grande Verso il 104 Ora Altre due zone chiuse Ovviamente Ho appena scoperto Che Queste qua Che fanno Il Il giro ad arco Queste qua Che abbiamo dato a fret Non vanno bene Per un semplice motivo Quando il nemico E' troppo vicino Non lo becchi mai Quando Invece E' in alto Cioè tipo Vengono sbalzati in aria Non ha veramente Modo di colpirli Fretta Cioè tipo Adesso Era molto vicino E ci è andata Molto di culo In altri casi Non è molto pratica Almeno i missili Vanno dritti Contro quel nemico E fine Almeno quello Però abbiamo ottenuto Anche il corvo Mica male Proiettile direzionale Di fuoco Davvero Ah sono le carte Come quella di prima Questa fa 613 Questa 886 Fretta Abbiamo appena trovato La tua nuova spilla Ah è un L1 Di carica Ok E' un proiettile Di vento Alla Buongiorno Fretta Forse abbiamo trovato La tua nuova spilla Appena potremmo Perché Non credo che faccia Ad arco Ma credo che vada Dritto al nemico Eh si Allora Devo essere sincero Preferisco questo metodo Di utilizzo delle spille La super spilla E le spille normali Piuttosto che Le spille Di categoria Nel senso In The World End With You Normale Avevi tipo La possibilità di avere Una sola spilla Demone E tipo una O al massimo Due angelo Una di tipo A proietti Una di tipo A spada Non potevi combinare Due volte la stessa spilla Ok Qua invece Hai la possibilità Non solo di mettere Più spille Su un solo tasto Quando sblocchi l'abilità Ma di poter avere Più spille Superiori A più personaggi Non hai una limitazione Anche questa qua Del quadrato Non è terribile Anzi Penso che Più avanti La utilizzeremo Eccolo qua Ah è il principe Che ha bisogno Di una mano Incredibile Sono troppo carino Il principe Se ne sta lì Con un'aria sconsolata Cosa pensi che abbia Forse sta pensando A una nuova ricetta O qualcosa del genere Oh Fare finta di essere assorto Nei miei pensieri Fa il suo effetto Spero che gli piaccia Il regalo che gli ho dato Andate via Oh è il principe E chi è Un tuo amico Magari È super famoso Davvero non lo conosci Ma hai sentito parlare di lui Sei solo che Te lo sei dimenticato Ma le celebrità Sono un po' più Non so Carismatiche In vero Sembra estremamente Diverso Dall'ultimo nostro incontro Non è che è un sosia In effetti Sembra un po' assente Userò il mio cervello galattico Sono arrabbiato È pieno di rumori Cosa? Yo spilletta Ci pensi tu? Certo Non possiamo lasciarle In codeste condizioni Puoi dirlo forte Portiamo in salvo il principe Noi non abbiamo detto niente In tutto questo Ma Nami Akita Ha solo una? Vabbè Vediamo che cosa gli sblocca Pensavo tutte e tre L'avrebbero sbloccato qualcosa A volte aumenta il groove Ottenuto dalle combo beat drop Fa Ah Vabbè Si può stare Ho tutte le combinazioni Atta ad aumentare il beat drop Possimili A sto punto Tentiamole Magari non finiamo sempre A fare rindo fret Ma Quella volta che capita Sai Non la buttiamo via Il potere dei fiori Un fiore Mi ricorda Iris La mia vecchia governante Eh? All'improvviso mi sento esausto Faccio una gran fatica a muovere Forse abbiamo fatto casino Con i fiori Che abbiamo dato Corri oggi 34 Noi siamo al 46 Vai Invasione Allora abbiamo Come primo nemico Che cos'è Il corvo O qualcos'altro Tra l'altro Tra poco saliamo di livello Ah i pinguini Mi sembra che Se non fossi più me stesso Allora Allora Le carte ti dirò che Non sono male Durano troppo poco Quello purtroppo Non ti posso dire Il contrario Durano Un po' pochino Rispetto A tutte Le altre spille Che abbiamo avuto Fino ad ora Durano Veramente poco Ecco Fatto La combinazione attuale Con le carte Ci fa perdere Un sacco di tempo Perché durano poco Dovrei Cambiarla Oh i lupetti Sono triste Risucchio PF Da chi Ah Ecco da chi Becca di questo Ok Siamo anche saliti Di livello Il camaleonte Ho scoperto Che è debole al fuoco E da quel momento È diventata Una puttanella Però cazzo Abbiamo lo squalo Però ci sono le run Che prima ci risucchiano La vita Vai fretta Ok lo squalo Per il momento Non ci sta Minimamente Calcolando Eccolo qua Che arriva però Dai Bravo Eh lo sapevo Da quando abbiamo tolto Quella lì Di Di roccia Lo squalo È un po' Un problema Da tirare giù Il problema È che adesso Abbiamo perso Tutti i ritmi Abbiamo perso Tutti i ritmi Perché Con quella lì Di roccia Riuscivamo a bloccare Più di un nemico Oltre al congelamento Ah finita Ottimo Abbiamo preso l'oro E abbiamo preso Un'altra rana E cos'altro Abbiamo preso Vediamo 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 Ah zanna di ghiaccio Niente di che Ma cosa Mi è successa Appena ho preso In mano il fiore Sono stato pervaso Da un senso di vuoto Forse ero più stanco Di quanto pensassi Stancati pure Quanto vuoi Ti adoriamo lo stesso Ecco tieni Spero che ti piaccia Principe Ti ho preso questi fiori Ti metteranno Di buon umore Oh che gentile È delizioso Ma mai come voi ragazze Se volete scusarmi Vado Iiii Sono dei cavalli Abbiamo risolto la cosa? Sì Sta bene Ma non abbiamo scoperto Da dove veniva il rumore Dai fiori È dura essere famosi Non è mai privacy La gente ti rompe sempre Forse era un po' stressato Sì certo Che fatica Essere amati da tutti Già Allora Prendiamoci Questa abilità Che sicuro schifo non fa E siamo già al 52% Del completamento Però con questo Le missioni di questa giornata Sono andate Ok Fammi passare verso Dogenzaka per favore Sapete come funziona Se volete completare la missione Potete passare Voglio che mi portiate Una spida dal valore più alto È la numero 270 Il rumore 07 Dovrebbe averne una Mai visto il Nafast corvo? Assomiglia a un corvo Non dovrebbe essere difficile trovarlo Non te lo puoi cercare da solo Potrei Ma lo sto chiedendo a voi O avete deciso di non passare di qui Dai su Spicciatevi Posso passare anche dall'altra parte Piedocchio Fammi indovinare Devo giocarla in normale Vero? Devo giocarla in facile? Ah Addirittura Credo di averla ottenuta Spero Perché ho fatto un combattimento infinito E Uh ok Saliamo di livello con questa Magnum degli innamorati E volare in alto Era questa la spilla che voleva La 270 Ok sì Uh Proiettili di ghiaccio Fred Benvenuto Finalmente qualcosa di interessante Abbiamo fatto bene a giocarcela in facile allora Quanto si ricarica? 8 secondi E forse si evolve quindi Quindi ora possiamo cambiare questa Al nostro amico E io ti direi Rimetterei questi qua di vento Perché mi sembravano un filino meglio E direi che siamo tornati in modalità ottimale Appena abbiamo la possibilità Io ti dico Fred Che questa qui di vento O a te O a Minamimoto O chi per lui Gliela mettiamo Qual era L'oggetto che ci aumentava Il tasto quadrato Questo qui 92 La percentuale di danno È del 30% Quindi A proposito di percentuale danno e cose Noi abbiamo appena fatto un combattimento da 10 Abbiamo la batteria totalmente vuota Andiamo a mangiare Dobbiamo aumentare di un bel po' Lo stile Di tutti Lo stile ci serve Quindi Al momento aumentiamo quello Più che altro A bit Bit è quello che necessita di più al momento Dobbiamo arrivare a 125 con lui Quindi altri 5 di questi Glielisiamo Bene Brava Nagi Quel 5 di più Mi hai fatto contento Anche quel 15 di punti ferita Non male Brava Ancora 15 di punti vita Brava Complimenti Stai diventando un tank a tutti gli effetti tesoro Madonna A comprare tutti sti cibi Io sto diventando ogni volta povero Forse però Prima di fare il combattimento Avrei dovuto parlare anche con l'altro demone Metti che adesso mi chiede un altro combattimento a catena Fermi Di qua non si passa Finchè non completata la mia missione Spara Vincere una battaglia a catena Da due riduzioni Che c'è? Troppo facile Vi raggiungo qualche riduzione se volete Due bastano Grazie Allora muovetevi Sono stato stupido Avrei dovuto prima Parlare con lui Vabbè Ci permette almeno di andare a mangiare di nuovo poi Oh Due riduzioni completate Siete stati veloci Sicuri che non sia stato troppo facile In effetti sì Perché non ce lo chiedi? Oggi siete diversi E la cosa mi puzza Non so proprio di cosa parli Passate pure What? Non capisco che dice Ma fa nulla Io Sì non mi lamento Se posso rilassarmi un po' ogni tanto Anche se sembra troppo bello per essere vero Ti capisco frate Vabbè Per ottenere le ricompense in più Si fa questo e altro Giusto? Quindi passiamo anche dall'altro demone Io abbiamo la tua stupida spilla Sì è proprio questa Potete andare Fossi in voi però Non avrei tanta fretta di passare E perché di grazia? Ho sentito che non vi aspetta nulla di buono Mmm In che senso? E tanti saluti Questa è sospetta effettivamente Quasi quasi cambio la spilla a bit Quella di carica gliela do a lui O potrei provare a dargli anche questa Che si evolve Anche se dura veramente poco Vabbè Quanti livelli? Cinque Proviamo Vabbè Vivà